il paradiso delle signore l'interprete di marcello cosa ne sarà di lui apostrofo pietro masotti commenta il finale riservato al suo personaggio e rivela che sarà presente nella settima stagione de il paradiso delle signore sono passati soltanto pochi giorni da quando è andata in onda la scena finale de il paradiso delle signore 6 un finale che però non ha regalato un lieto fine a tutti i personaggi in modo particolare ad una delle coppie più amate e venerete della daily soap di mamma rai ludovica e marcello l'attore che veste i panni del socio di savatore ha commentato quanto avvenuto nell'ultima puntata e lo ha fatto annunciando che a breve tornerà sul set per girare la nuova stagione il paradiso delle signore ecco com'è finita tra ludovica e marcello nell'ultima puntata del paradiso delle signore 6 marcello è tornato su suoi passi ed ha capito di non voler perdere ludovica brancia di montalto quando l'uomo è corso a casa bergamini con la speranza di trovare la donna che ama ha avuto una spiacevole sorpresa i due hanno avuto una conversazione interessante culminata con una richiesta a dir poco particolare di barbieri purtroppo ludovica è partita la sera prima e al suo posto marcello ha trovato adelaide pur di riconquistare l'ammata il socio di salvatore si è detto disposto a cambiare lasciando presagire la sua intenzione di voler diventare facoltoso in modo da far vivere a ludovica la vita che merita da ciò che si è avuto modo di intuire adelaide lo guiderà in questo percorso verso il cambiamento per cui non è da escludere che nella settima stagione si vedrà un marcello tutto nuovo trasformato quale sarà la reazione di ludovica pietro masotti commenta il finale riservato a marcello al termine della puntata finale del paradiso delle signore l'attore pietro masotti ha pubblicato un post nel suo profilo ufficiale ig nel quale ha parlato del destino riservato al suo personaggio cosa ne sarà di lui nella prossima stagione inizia così il post in questione in cui masotti si interroga sulla sorte del suo barbieri chiedendosi se prenderà questo famoso ascensore sociale che lo porterà a cambiare si è così appresso che marcello sarà presente nella settima stagione le cui riprese inizieranno con molta probabilità a maggio inoltrato l'attore non solo ha fatto presente che in quegli anni era del tutto possibile farsi strada nel mondo dei ricchi ma ha augurato al suo personaggio di ritrovare quell'amore che lo completi e che lo perfezioni continua dopo la foto le ipotesi dei fan dei il paradiso delle signore marcello e adelaide coppia i fan dei il paradiso delle signore non hanno perso tempo a dire la loro in merito a ciò che si augurano di vedere nella settima avventura che partirà a settembre ebbene c'è chi ha fantasticato su una relazione tra l'amatura adelaide e il giovane marcello chi addirittura spera in un ritorno dell'ex roberta e chi invece auspica la riconciliazione con la bella ludovica cosa decideranno di fare gli autori grazie a tutti